Ovviamente io decido di iniziare una serie settimanale di news di atletica esattamente nel periodo delle festività, quindi per stavolta e anche per la prossima probabilmente diciamo che occupiamo un periodo di 10 giorni piuttosto che una settimana. Quindi oggi vediamo le notizie dal 18 al 27, più o meno il 27 di dicembre 2023. Servirebbe tipo un suono, un qualcosa per dire che si cambia notizia, tipo un pliplom, però devo trovarlo effettivamente. Vabbè, iniziamo. Plimplom! Prima notizia. In un 2024 che si trova veramente denso di impegni, non stupisce che molti atleti cominciano a definire bene la loro stagione 2024 e quindi aspettiamoci nei prossimi mesi anche diverse defezioni o magari anche conferme riguardo soprattutto ai campionati mondiali indoor. Perché c'è chi deciderà di non dedicarsi alla stagione indoor o di farla senza particolari finalità. Uno di questi è Marcel Jacobs, campione mondiale indoor in carica nei 60 metri e che svolgerà la stagione indoor solo in funzione di quella outdoor. Non avrà come finalità il difendere il titolo mondiale. Magari parteciperà ai mondiali, però non è detto che abbia enormi risultati proprio perché il suo obiettivo sono gli europei ma soprattutto i giochi olimpici. Di contro, per mantenere tutto perfettamente bilanciato così come dovrebbe essere, abbiamo invece la conferma di Mondo Duplantis che sarà al via ai campionati mondiali indoor di Glasgow dall'1 al 3 marzo ovviamente nel salto con l'asta. Blimplom! Mi fa ridere blimplom, non ci posso fare niente. Il pesista azzurro Nick Ponzio ha ricevuto una squalifica di 18 mesi contro i 12 che erano inizialmente preventivati. Questo a causa della violazione di 3 whereabouts nell'arco di un anno che normalmente porta alla squalifica di 2 anni. Però ci sono stati diversi attenuanti come per esempio il fatto che il suo telefono avesse dei grossi problemi che non gli hanno permesso di cambiare, compilare i whereabouts, non ho ben capito la cosa però comunque ha avuto dei problemi col cellulare. E quindi invece di 24 mesi se ne è beccato i 18. Però questo vuol dire che non sarà al via ai campionati europei e soprattutto non sarà al via ai giochi olimpici 2024. Poi considerate che Nick Ponzio è giovane per essere soprattutto un pesista, è del 95 e potrebbe tranquillamente puntare a Los Angeles 2028. Però non è detto per nulla che voglia farlo perché lui ha annunciato addirittura il ritiro dalle scene competitive. Poi magari cambia idea prossimamente. Però attualmente Ponzio è un atleta finito. Staremo a vedere se ritornerà. Blimblom sulla rivista Athletics Weekly e su un giornale spagnolo di cui non ricordo minimamente il nome perché non l'ho segnato da nessuna parte, sono comparsi due interessanti articoli che riguardano Sebastian Coe ovvero il presidente della World Athletics che parlano un po' del futuro della World Athletics, dalle sue intenzioni, delle scelte che ci saranno da qui ai prossimi anni. Non ci sono cose veramente molto definite però potrebbero essere utili per capire le scelte che ci saranno o che ci sono state in passato. A riguardo se volete approfondire l'argomento vi lascio nel primo commento e in descrizione il video in cui ne parlo approfonditamente perché non posso riassumere una roba del genere in un solo minuto o due di queste news. Quindi ti prego me stesso del futuro metti il commento, ricordatelo se riguardi questo video metti il commento. E già che ci sono vi ricordo di mettere anche mi piace al video se vi sta interessando e di iscrivervi al canale. E qui sto parlando a voi non al me del futuro giusto per non sembrare completamente pazzo. Blimblom! Tantissimi nuovi atleti sono entrati nel gruppo sportivo militare delle Fiamme Gialle addirittura 11 nuovi ingressi per quanto riguarda l'atletica. Bene o male vanno a coprire un po' tutte le specialità o almeno le macro specialità eccezion fatta un po' per i lanciatori perché non c'è nessun lanciatore di questi 11. Gli 11 nuovi ingressi sono i velocisti Edoardo Longobardi, Alice Pagliarini e Alessandra Buonora, l'ottocentometrista Francesco Pernici di cui trovate un video a riguardo sul canale, le ostacoliste Elena Carraro, Veronica Besana e Alessia Seramondi, l'astista Simone Bertelli, il saltatore in alto Edoardo Stronati, il marciatore Diego Giampaolo e il decatleta Lorenzo Nairon. Blimblom! Con quasi due mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia inizialmente annunciata, la World Athletics ha cambiato ufficialmente la dicitura di outdoor e indoor. Adesso non esisteranno più queste due distinzioni ma saranno semplicemente le outdoor che non hanno più il nome outdoor ma sono semplicemente le gare, tipo i 200 metri non sono più i 200 metri outdoor ma solo 200 metri, mentre la terminologia indoor sparirà completamente, sostituita per le gare di corsa in short track, però gare di corsa che superino i 60 metri perché i 60 metri non hanno più distinzione tra aperto e chiuso. Mentre per quanto riguarda i concorsi e lanci anche qui non ci sarà più la distinzione, questo va a influire sui record del mondo perché di fatto vanno a sparire completamente i record indoor e questo fa sì che un 200 metri, mettiamo un record mondiale di 200 metri su short track, su pista corta, può essere fatto adesso anche all'aperto in piste ovviamente ridotte e quindi la distinzione tra le specialità un po' dell'atletica, tra le tipologie di gare dell'atletica non è più tra coperto e all'aperto ma riguarda la pista, le dimensioni della pista, quindi si potrebbe fare addirittura il record del mondo di 400 metri anche in una pista al coperto ma grande 400 metri che non so neanche se esistono, so di piste di 300 metri indoor ma non di 400, però comunque nulla vieta che si possa fare. La FIDAL ha pubblicato le nomination per quanto riguarda i premi dell'anno e riguardano miglior atleta dell'anno, premio di stella nascente che diversamente rispetto a quanto fanno le federazioni internazionali come l'European Athletics o la World Athletics, la FIDAL ha deciso di mettere il premio per gli under 23 e non gli under 20 come fanno appunto le federazioni internazionali. Ci sono poi i premi di master dell'anno e di squadra dell'anno. Il premio verrà assegnato con un sistema misto che si basa per due terzi del voto su una giuria e poi per un terzo finale per quanto riguarda i social a seconda dei like e dei mi piace ricevuti dalle varie storie, dai vari post più che storie della FIDAL. Secondo me alcuni premi sono abbastanza scontati perché c'è chi ha fatto decisamente meglio di tutti gli altri. Per me miglior atleta dell'anno maschile è Gianmarco Tamberi, al femminile Larissa Iapichino, stella nascente maschile Mattia Furlani, mentre per quanto riguarda la stella nascente femminile è abbastanza combattuta la scelta. Secondo me veramente non saprei scegliere e lì secondo me tutte hanno fatto cose spettacolari le atlete che sono nelle nomination. E qui chiedo a voi chi scegliereste come premio per l'atleta dell'anno, squadra dell'anno e cose varie. Se volete sapere le nomination, che ci metterei 12 ore a nominarvele tutte, vi invito a guardare ogni canale social della FIDAL che l'hanno pubblicato un po' ovunque. Dlindlon, Dlan, questo non ve l'aspettavate, il Dlan finale era inaspettato, lo so. Dlindlon, Dlan, cioè Dlan è proprio il livello successivo. Con una decina di giorni in anticipo rispetto alla stessa data del 2022, la FIDAL ha pubblicato i minimi di partecipazione per i campionati italiani assoluti, di categoria giovanile e anche per la festa del cross. Per quanto riguarda gli assoluti, non si possono fare paragoni col passato perché il sistema è completamente nuovo, più o meno nuovo, è un po' rivisto, ecco, perché c'è l'introduzione dei minimi di partecipazione B, la cui differenza sta nel fatto che chi fa il minimo di partecipazione A ha il posto garantito agli assoluti, mentre chi fa il minimo di partecipazione B entra in una sorta di waiting list, da cui verranno poi pescati, a seconda del merito della prestazione, gli atleti che andranno a comporre i partecipanti agli assoluti e verranno pescati tanti atleti quanti ne mancano per completare il target number, ovvero il numero che la FIDAL vorrebbe avere all'interno dei campionati italiani assoluti. Mentre per quanto riguarda le categorie giovanili, ci sono state anche grosse sorprese per quanto riguarda alcune specialità, soprattutto per quanto riguarda la corsa, che hanno visto un incremento anche molto notevole in certe situazioni di difficoltà per fare il minimo. C'è una logica, c'è una spiegazione dietro queste cose perché si basano su cose statistiche, questi minimi. Però è abbastanza lungo da spiegare, fare considerazioni varie, quindi nei prossimi giorni farò un video dedicato ai minimi di partecipazione, così almeno ne parlo in maniera approfondita e vi chiedo di pazientare ancora un pochettino per avere quel video. Dlindron, notizia numero 8. Gran bella notizia che è passata purtroppo sotto traccia è la rinascita di Atletica Studi, la rivista scientifica della FIDAL che andava avanti dal 1970, poi interrotta, non so in che anno, però poi interrotta e adesso sta riprendendo. La FIDAL ha pubblicato gratuitamente, non solo per i tecnici, ma per tutti quelli che vogliono vederla, il numero 0, di cui si parla tra le altre cose di analisi statistica nel lancio del peso, nel disco, del dropout dei giovani, ovvero dell'abbandono dell'atletica post-Covid, si parla di riforma dello sport e di altre cose che non sto a citarvi tutto l'indice. Ed inoltre è disponibile anche l'intero archivio di Atletica Studi, anche qui non più solo per gli allenatori e per i tecnici, ma anche per chiunque volesse consultarlo, che questa è una gran bella notizia, è bellissima questa cosa, che chiunque può consultare Atletica Studi, e purtroppo è passata un po' sotto traccia questa cosa, ma vi invito a guardarlo perché sono praticamente tutte cose interessanti. Dlindron, penultima notizia. La FIDAL nel 2024 disporrà di un budget di 2 milioni di euro in più rispetto allo stesso budget del 2023. Questo perché Sport e Salute ha stanziato un totale di 15.151.000 euro per quanto riguarda la FIDAL, che si tratta tra l'altro del terzo più alto budget di tutti gli sport, dietro soltanto al calcio che ha quasi 36 milioni e della pallavolo che ne ha 16 e mezzo. Questo forte incremento di budget, perché parliamo di un incremento veramente consistente, è dovuto a un cambio di algoritmo di scelta di sport e salute per quanto riguarda i budget, che adesso rispetto al passato premia di più la meritocrazia, e meritocrazia non si intende solo i risultati internazionali degli atleti, ma anche il merito a livello economico. Quindi federazioni che gestiscono bene il budget e hanno anche ottimi risultati, avranno più soldi rispetto alle altre, oltre ovviamente anche a un parametro che si basa sul numero degli iscritti. Dlondlin, stavolta addirittura al contrario il suono del cambio di notizia, per l'ultima notizia tra l'altro, il mezzofondista francese Pierre Ambrose Boss, o Bosset, o come si pronuncia, lo chiameremo soltanto Pierre per semplicità, ha annunciato che si ritirerà dalle competizioni. Il classe 1992 fa strano che si ritiri adesso, perché tra pochi mesi ci saranno i giochi olimpici in casa sua, in Francia. Però si capisce presto il motivo di questo ritiro, perché se avete iniziato atletica da poco, da qualche anno, non l'avrete mai sentito nominare, vi starete chiedendo, vabbè, chi se ne frega di questo qua che si ritira, chi lo conosce. Effettivamente nel 2023 non ha fatto neanche una gara, e nel 2022 è stata una stagione veramente scarsa, per il mezzofondista specializzato negli 800 metri. Però negli anni passati è stato veramente forte, considerate che lui è il quinto migliore europeo di tutti i tempi, con un primato personale di 1,42,53, realizzato però ormai quasi dieci anni fa, realizzato nel 2014, e poi è stato anche il campione mondiale all'aperto, negli 800 metri, a Londra 2017, e poi l'anno prima, nel 2016, era arrivato addirittura a quarto ai giochi olimpici, quindi capite che non si tratta dell'ultimo arrivato. Ed è per questo che la notizia del suo ritiro fa un po' di scalpore, però appunto ormai non era più competitivo, a maggio tra l'altro si era rotto anche il tendine del bicipite femorale, ovvero uno degli ischi crurali, ovvero uno degli muscoli che più esplodono a qualsiasi atleta, e poi ha dichiarato che proprio non ce la faceva più, non riusciva più a riprendere, a ripartire dopo i continui infortuni, e dopo stagioni fatte male, possiamo dire. Per quanto riguarda altre notizie, purtroppo non ci sono risultati da riportare, perché non ci sono state gare interessanti, o comunque non ci sono stati risultati abbastanza rilevanti da portare alla vostra attenzione, secondo me. Quindi chiudiamo così il video con 10 notizie, il prossimo video non credo che sarà tra una settimana, perché potrebbe arrivare magari già dopo l'epifania, visto che è un periodo di poche notizie, pochi risultati, e quindi magari dai, il prossimo video facciamo ancora una decina di giorni di news, invece di soli 7. Mi raccomando, se vi piace questo format, iscrivetevi al canale, così non ve le perdete neanche una puntata, e soprattutto supportate il canale, che siamo arrivati a 2000 iscritti, grandi, e grazie mille, e non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti, e buona fortuna le gare che tra poco arrivano, dai che tra poco arrivano le gare, che bello, e ciao ciao.